Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, sono Sparks Oggi andiamo a parlare di una notizia che metterà hype a tutti coloro che hanno iOS Perché ragazzi, a quanto pare, grazie a una collaborazione tra Epic Games e quindi Fortnite E NVIDIA, quindi con il nuovo servizio GeForce Now A quanto pare è possibile finalmente tornare a giocare dai dispositivi iOS a Fortnite Quindi tutti gli iPhone possono finalmente tornare a giocare a Fortnite Ora vi spiego anche come fare e vi lascio anche il link in descrizione Per poter partecipare alla beta che sta uscendo per GeForce Now Prima di iniziare vi chiedo semplicemente di iscrivervi al canale Se vi piace sia Fortnite che Brawl Stars o comunque giochi mobile dal reparto Supercell No ragazzi, adesso iniziamo col video e sigla! Il servizio di cui vi sto parlando è GeForce Now Vi basta andare sul sito di NVIDIA.com Che è il sito ufficiale delle schede video che ormai tutti conoscono E andare nella sezione GeForce Now GeForce Now ragazzi è un nuovo sistema di Cloud Gaming Fatto proprio da NVIDIA Per dare la possibilità a chi non ha magari un computer Una piattaforma molto potente di poter giocare a tutti i giochi disponibili Infatti qui in copertina vediamo già come copertina Fortnite, Crysis, New World, Apex Legends La nuova generazione del Cloud Gaming Quindi tutti i tuoi giochi E ragazzi, sentite bene Sono disponibili in RTX ON Quindi è possibile addirittura per chi vuole il massimo delle prestazioni Abilitare anche un abbonamento E avere i giochi con la RTX 3080 Ormai è una spesa impossibile avere la RTX 3080 Perché come ben sappiamo è quasi impossibile trovare dell'RTX a un prezzo normale Infatti sono schizzati tutti in alto i prezzi dell'RTX Per probabilmente il mining di criptovalute Gratis significa tante nuove possibilità Con quasi 100 tra i migliori giochi gratis che sono disponibili su GeForce Now Non dovrei comprare nulla per iniziare subito a giocare Se andiamo a vedere anche i giochi Tra tutti questi giochi abbiamo Fortnite Per avere l'opportunità di giocare a Fortnite da iOS Mi raccomando, cliccate in questo link verde in alto Iscriviti alla lista d'attesa Una volta che vi iscrivete Quindi fate l'accesso con il vostro account Vi ritroverete una schermata così Fortnite Close e Beta per dispositivi mobile O mobili Su GeForce Now a tempo limitato Va bene perché è una lista d'attesa In questo tempo limitato comunque potrete avere l'opportunità di tornare finalmente su Fortnite Dopo tantissimo tempo Comunque è una mossa astuta anche da Epic Il fatto di raggirare l'App Store E alla fine riuscite a riottenere i player mobile di iOS È una mossa veramente astuta Se clicchiamo su Safari OS Quindi iPhone e iPad Io ovviamente li metto entrambi Potete anche mettere entrambi E cliccate in via Vi andrà a iscrivere in lista d'attesa È quasi ora di volare Il tuo indirizzo di me è stato aggiunto alla lista d'attesa Ci saranno tantissime persone che si iscriveranno in lista d'attesa A partire da oggi Quindi fatelo In più ci sono anche dei piani di abbonamento Sia gratuiti che a pagamento Quello gratuito vi dà un servizio base Quindi accesso standard ai serviti di gioco È durata sessione massima un'ora Se però volete una RTX 3080 Con 6 mesi sono ben 99 euro Magari dite Oh ma è un prezzo grossissimo Ragazzi avrete tutti i giochi Con una RTX 3080 Fino a 1440p Per 120 fps Potete fare fino a 8 ore di sessione di gioco Quindi ragazzi Qualcosa che per chi Magari vorrebbe giocare ad esempio a Fortnite Ma non ha un PC Questo è il miglior modo per accedere a qualcosa del genere Anche se avete uno scassone di PC Quindi ragazzi questo è il modo per poter giocare a Fortnite da US Mi raccomando fatelo subito Iscrivetevi al canale Tantissimi like Se siete anche voi felicissimi di questa notizia E ovviamente se volete Attivate anche le notifiche del mio sito web su Fortnite Dove pubblico ogni giorno tantissime guide Come questo qua su US La Playstation Cup che arriverà tra poco Tutti gli aggiornamenti Leaks Io chiudo il video perché penso di aver detto abbastanza E ci vediamo ovviamente live su Twitch Dove io ogni giorno gioco con voi iscritti a Fortnite Ragazzi Da Spax è tutto Alla prossima Bella Alla prossima Alla prossima